Stanche di dover sempre impiegare un sacco di tempo per cercare una collana e slegarla da tutte le altre? Da adesso con questo DIY i vostri problemi saranno risolti definitivamente e le vostre collane saranno sempre in ordine. Non impiegherete più tanto tempo per prenderle e risparmierete anche un sacco di tempo. Per scoprire quindi a fare questo DIY continuate a guardare il video. Allora, l'occorrente sono delle spilline, quelle da bacheca, ed una semplicissima cornice di legno. Io questa per esempio l'ho trovata nel mio garage. Ok, quindi a questo punto prendete le spilline e iniziate a posizionarle nella cornice, cercando di lasciare lo stesso spazio l'una dall'altra. Potete anche utilizzare spilline tutte di uno stesso colore, oppure dipingerle e dipingere anche la cornice, magari anche in base ai colori della vostra stanza. Io ho lasciato le spilline così perché mi piacciono colorate, ma a voi la scelgo. Poi faccio la stessa cosa sotto, cercando di metterle però parallele agli spazi vuoti della parte sopra, così che quando metto le collane non si sovrappongano. E a questo punto ho preso un oggetto abbastanza pesante per fissare bene le spilline nella cornice ed evitare quindi che cadano. Ecco quindi la cornice è pronta. Poi ho posizionato le collane cercando di equilibrare quelle pesanti con quelle leggere ed evitare che la cornice sia storta. E niente, quindi questo è il DIY finito, spero che vi sia piaciuto e che proviate a rifarlo perché è davvero facile ed economico. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!